L'integrazione di vitamine è utile? Dipende. Se ci sono delle carenze accertate, non so, agli esami del sangue risulta una carenza di vitamina B12, di acido folico, piuttosto che di vitamina D di domodossola, il medico prescriverà la giusta integrazione. Se a prescindere io seguo una dieta varia ed equilibrata, svolgo dell'attività fisica regolare, dovrei poter attingere a tutti i macro e i micronutrienti dalla dieta, perché quella è la raccomandazione, non dovrei attingerli dai multivitaminici, quindi solo quando necessario, non a priori. Quante proteine al giorno assumere? Allora, il fabbisogno proteico dipende dal tipo di soggetto, se è un soggetto sano o se è un soggetto patologico. Nel soggetto sano che non abbia problemi renali, il conteggio delle proteine è in base al peso, all'incirca di un grammo di proteine pro chilo. La differenza può essere fatta per un soggetto fisicamente attivo o sportivo o sportivo in senso agonista. Per il paziente con patologia potrebbe esserci un aumento del fabbisogno proteico e lì la dose di proteine pro chilo di peso corporeo può aumentare anche sull'1.5 o fabbisogni superiori.